L'Aggiunta Comunale ancora non recepisce le modifiche approvate due mesi fa per la modifica appunto dello Statuto della Consulta Giovanile. A lanciare l'allarme Mario Schettino dei Giovani Democratici, una mancanza sconcertante, così la definisce. A giorni infatti arriverà la scadenza per il rinnovo della Consulta Giovanile e questa mancanza rischia di bloccare completamente l'attività. Il contributo richiesto alla Giunta per il proseguimento dell'ITER è infatti semplicemente quello di certificare e accogliere un lavoro già eseguito, praticamente un copia e incolla. Dunque non si capisce perché non arrivi questa approvazione in Giunta. Dal 2 novembre quando la Consulta Giovanile si è riunita e ha approvato le modifiche di Statuto, nonostante un sollecito nuovamente fatto dal coordinatore della Consulta il 20 dicembre, a tutt'oggi ancora non abbiamo le modifiche di Statuto che abbiamo richiesto, tra l'altro in ottemperanza delle richieste fatte dal Consiglio Comunale. Se non abbiamo queste modifiche non riusciremo poi, e gli uffici non riusciranno a ribandire i nuovi posti per la Consulta Giovanile. Quindi ci troviamo in un impasse di rallentamento. Evidentemente l'amministrazione non vuole procedere per atti amministrativi, ma anzi non riesce nemmeno a semplicemente ratificare delle procedure che già sono state fatte. Quanto è importante la Consulta Giovanile per le varie attività che si fanno? La Consulta Giovanile dopo un primo momento di stallo, anche per capire il suo funzionamento, nonostante la difficoltà nella creazione della Consulta stessa ormai due anni fa, adesso aveva iniziato a lavorare, stava producendo dei dossier sulla condizione appunto giovanile della città dell'Aquila, ha organizzato degli eventi nella perdonanza e all'esterno presentazioni di libri. Senza questo ci ritroviamo che a pochi giorni dalla scadenza del mandato biennale della prima Consulta Giovanile non abbiamo i tempi tecnici di attuazione per rinnovarla, quindi rischeremo di avere alcuni mesi, perché ci sono delle tempistiche da statuto, che bloccano l'organo praticamente. Nessun contatto col Comune non vi hanno dato rassicurazioni? Quando abbiamo approvato le modifiche siamo stati rassicurati che sarebbe stato un passaggio velocissimo, anche perché era semplicemente fare un copia e incolla banalmente di quello che è stato fatto tra le modifiche dei ragazzi all'interno della consulta. Evidentemente come amministrazione preferiscono fare più dei programmi elettorali piuttosto che fare degli atti amministrativi.